Il fine settimana a Valbondione è particolarmente ricco. Sì, questo è un fine settimana ricco di eventi. Si inizia venerdì con un concerto molto importante. Consigliamo a tutti di venire a sentire questo concerto. Il Suonatore Johnson, un concerto omaggio a De Andrè con Vittorio Descalzi e Edmondo Romano alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bondione. L'ingresso è gratuito. È un concerto molto emozionante con omaggio a De Andrè. Poi ci sarà domenica la prima apertura delle Cascate del Serio e da qui parte proprio la stagione estiva di Valbondione. Posso ricordarvi alcuni eventi molto importanti. Ricordiamo alcuni eventi di luglio. Si inizia l'11 luglio con la prova Coppa Italia Steel Timber Sport presso il campo sportivo di Valbondione. Una vincente gara a squadre dove gli atleti competono a colpi d'ascia, sega e motosega presso il campo sportivo con inizio della prima manche alle ore 15. In questo evento verrà garantito il servizio bar, musica e un grande intrattenimento. Vi ricordo che potete trovare tutti gli eventi sul sito di Turismo Valbondione www.turismovalbondione.it e seguirci su Facebook. Altri eventi importanti da ricordare proprio perché quest'estate sarà un'estate ricca di eventi a Valbondione. Il 31 luglio abbiamo Valbondione che diventa base vita della gara Orobbie Ultra Trail. In questa occasione, in questa gara, Valbondione sarà la prima tappa base vita della gara e quindi in questa occasione Valbondione ha organizzato una notte bianca per aglietare la serata agli atleti e non solo. Poi ci saranno mercatini obbisti e le fantastiche sabbie luminose. Passiamo ad agosto. Agosto anche lì è ricco di eventi. Iniziamo con ricordarvi il sabato 8 agosto lo Sport and Wellness Day dove in varie località del paese ci sarà la possibilità di provare numerosi sport e di assistere a dimostrazioni tecniche. Mentre invece all'interno del palazzetto dello sport verrà allestita un'area relax con esperti di benessere. Quindi anche questo un evento da non perdere. Sempre su agosto possiamo ricordarvi lunedì 17 agosto il concorso La più bella del mondo. All'interno del palazzetto dello sport ci sarà la finale regionale del concorso La più bella del mondo. Ci saranno appunto delle sfilate di queste ragazze che partecipano a questa finale. Le ragazze che passeranno il turno arriveranno poi alla finale nazionale a Gabice Mare di settembre. Quindi come vedete è un calendario molto ricco di eventi sia su luglio, su agosto e anche su settembre. Settembre posso ricordarvi il teatro dialettale sabato 5 settembre. Vi consiglio proprio di seguirci sia sul nostro sito www.turismovalbondione.it che su Facebook per tenerci sempre in contatto con noi.